Ciao a tutti, sono Lecchi 3 minuti di questo nuovissimo video. Oggi siamo su FAMISY 2019 e ero là seduto a vedere un po' cosa potremmo fare oggi e non l'ho capito, però andremo a raccogliere le pari via e adesso andiamo a cercare questa nuoviglia, la somiglia che non c'è, noo ah non ho più là ho la mettiamo sempre andiamo a vedere si, è fantastico ma ce la mettiamo là perché due episodi questo episodio è l'altro che era fuori un po' di un po' di un po' di una Scusate 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 Allora Scusate Allora Facciamo Ok E andiamo a prendere Quella 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 Scusate Un peccadino piccolo E la scoglie La scoglie Però Facciamo un po' quello che ho detto Tanto per ora Va bene spesso Ma se no Scusate Andiamo a prendere Anche Uno di più grande Scusate 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 Questa Scusate Scusate Ah perché E' come C'è Scusate 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 Quindi Scusate Allora Fai Una 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 Scusate Scusate Si Ok Un lavoro Si spoglie Scusate Si Scusate Lascio Un po' Nella Spoglie Le opere iniziate Ok Allora Allora Andiamo avanti Sto girando, a 4 minuti di acqua, aria tutta nuova, Dobbiamo finire il ucate, infine un un fiatto, va bene, non ci l buscando a conquistare non è giustamente il sovrapposto, a quanti quindi andate al porto velo Ok, allora proviamo, sento delle voci, non so perché, un po' è già pieno, quindi adesso prendiamo e andiamo a vendere. Quante ore, ma qui è? E abbiamo tutti i pelosi, siamo tutti i pelosi. E' un po' di più grande, un po' di più grande. E' un po' di più grande, un po' di più grande. Ditevi anche se va bene così o se volete sempre tutto all'interno, stavo parlando, ci ho finito con mezzo. Sì però in quanto tu è assoluta in realtà, allora qui non rispetti se è assoluta, va bene, in quanto tu è assoluta in realtà? La fatica israelistica, adesso andiamo qua, ci torniamo qua, ok, cerchiamo e abbiamo, 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 1000 euro, 1000 euro. Un po' lecce, 1200 euro, 1000 euro. Siamo a dire, 1299, un tanto qui, e poi un'altra strada, un pò che va bene di paghiamo, un'altra parte di un campo, un po' di cittadini, un po' di cittadini, un po' di cittadini ora è quello, questo qua no, ma questo qui, oppure l'altro di cittadini, oppure l'altro di cittadini un po' di cittadini, un po' di cittadini, un po' di cittadini, un po' di cittadini non devo uscire la versione, perchè la macchina metto la friccia, allora, abbassa, lavora, basta ovviamente l'ho lasciata al campo, ovviamente non la poglierò tutto, perchè quello lì, che rimane là l'acqua, 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 l'acqua non penso che quella cittadini fanno qualcosa, ma anche la cittadini mi piace molto mi piace, è bella, però mi sto per evitare tutti i campi e poi sto sedendo molto, oppure sto muovendoci a tutti le patatine, dietro in me prima cosa città Sto utilizzando l'agriculti, che utilizziamo sia l'euro e poi sto utilizzando i colori e alcoologi, ma non si non, ma è un po' di sottotitoli, non si non, ma è un po' di sottotitoli, E' un po' più bello per il paname che era un po' più finale di un nuovo gioco. Buon infarto, mi chiamo Sì, voglio vedere la scintata Ah, mi raccomando Ditevi se volete gli acquisti In questo caso, potete vedere lo spazio 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 Al mio negozio, potete vedere Direttamente Quello che abbiamo scintato Oppure Faccio Quello completamente Dal mio shop Secondo voi In questo caso Se voglio parlare In questo caso Per Comprarmi Sempre buoni Quindi Comprarmi In questo caso Adesso A presto In questo caso non saprei perché sono i caratteri i venti per dire che è molto più velocemente per dire 40 euro per dire 40 euro e la flash e la portiera eccetera che è una mostra in gioco tanto finiamo qua il prossimo video io l'ho comprata un po' più prestito ah avete l'occhio di erba oppure volete vedere anche l'occhio dell'erba io penso che bisogna che voglio prendere l'erba e poi l'occhio di qui prendiamo il 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 raccolipaglia adesso vediamo qua che è anche più presto questo ok magari per il dopo domani potete trovare un po' più tagliato l'erba via dove è tagliato l'erba e per il dopo dopo domani vi faccio trovare la frutata quindi per tre giorni o tre giorni sicuro la frutata insieme o comprare il nuovo il nuovo il nuovo il nuovo raccolipaglia adesso andiamo a vendere e questa è l'ultima vendita dopo un certo abbiamo metto la vigna e abbiamo dovuto mettere altri un po' di acqua ma po' ma po' che ne vado perché non è più che è l'altra e forse per tutti i fatti di bordo dovremmo anche andare a fare un'inferzione di retanti ma per quello vi faccio vedere la frutura di tutta una città un po' ora si può evitare un po' che è bene tutto il giorno A presto, a presto, a presto. allora vediamo questa volta la città di Valmamma quanto è la monta di nessuno e l'acqua sono Himmelo hanno quindi Himmelo ecco ai ci sono puntati anche la città è il sistema ma a parte di più oltre va bene, come dire? questo è un modello di trattore che è una città da 155 che è un modello senza la cabina che è tanta nuvolità con la cabina e anche nuvolità... ok, tutto qui bisogna lasciare davanti questo qua questo qua adesso andiamo a prendere la nostra cucina e poi finiamo un po' più lungo però... comunque se ho finito e riposare il cucinio va bene va bene qui non 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 ne non 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 so se lo fa il dottore ma che è molto intensa e non si può mai se lo fa un po' più bello 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 ok mi sto ricaricando l'acqua tagliamo ok ricaricato tagliamo scusatemi che era facile mettiamo a mettere a posto e poi e poi andiamo a questo un po' più bello che è stato che è stato un po' più bello che è stato un po' più bello un po' più bello che è stato un po' più bello che è stato un po' più bello che è stato che è stato un po' più bello che è stato un po' più bello che è stato che è stato un po' più bello un po' più bello che è stato un po' più bello che è stato un po' più bello che è stato un po' più bello che è stato